Rivolgo un saluto cordialissimo a tutti. Vorrei ringraziare anzitutto l'orchestra e il coro per la splendida esecuzione dell'Inno Nazionale e del Vapensiero. Un saluto a tutte le autorità presenti. Ringrazio il Ministro dei Beni Culturali, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il Sindaco e attraverso di lui un saluto particolarmente cordiale a tutti i parmigiani e a tutti i parmensi, Presidente Rossi. Un saluto riconoscente anche ai tanti che hanno collaborato e si propongono di contribuire alle molteplici attività che renderanno attraente e importante il programma di Parma, Capitale Italiana della Cultura, per il 2020. Vorrei ringraziare della presenza e salutare molto i sindaci di altri comuni, del territorio qui intorno, i sindaci particolarmente di Piacenza e Reggio Emilia. Questa presenza raffigura un aspetto importante nel nostro Paese, che è costituito da un tessuto culturale diffuso. In ciascuno dei vostri comuni vi sono segni culturali di grande rilievo, di grande importanza. E quindi essere capitale della cultura significa rappresentare e coinvolgere questo grande tessuto nazionale, che in questa Regione è particolarmente ricco e affascinante. Parma lo è stato a Capitale nella sua lunga storia. Abbiamo visto poc'anzi uno splendido filmato e vorrei salutare e ringraziare i giovani protagonisti, un filmato concluso con una splendida rievocazione di colonne sonore e di titoli del grande maestro Alberto Lucci. e vorrei ringraziare l'assessore alla cultura del Comune di Parma per questa impostazione che questo filmato ci ha offerto. Sindaco, questi segni di Capitale Parmalireca, nelle tante vestigia che vi sono nelle sue piazze, nei suoi monumenti, nelle opere d'arte, nell'architettura dei suoi edifici più celebri, in tante altre espressioni che sono oggi integrate pienamente nella modernità della vita cittadina. Parma nel tempo si è arricchita di culture e saperi diversi. È stata crocevia di commerci, di incontri e di confronti. Ha conosciuto tante stagioni assai fertili e ha raggiunto eccellenze che ancora oggi ci è permesso di ammirare. La Parma romana, la Parma dell'epoca comunale, la Parma rinascimentale, la Capitale del Ducato, la Parma borbonica e napoleonica. È la Parma protagonista nella storia nazionale dal risorgimento alla resistenza, agli anni della grande crescita economica e sociale, ai nostri giorni. La Capitale della Cultura avrà la grande opportunità di rinsaldare e far conoscere ancora di più le proprie radici, mostrandole agli italiani che verranno a visitarla, offrendole agli europei che di questa cultura sono partecipi. La cultura d'Europa, con tanti articolati e diversi caratteri, è stata costantemente legata da una trama comune. Questa trama diviene sempre più fritta e interconnessa e anche per questo è ancora più indispensabile ai nostri popoli per affrontare le grandi trasformazioni di questa epoca. La cultura batte il tempo. È davvero un bel titolo quello che avete scelto per unire gli sforzi della città in questo anno che certamente sarà per tutti voi carico di soddisfazioni e conferirà una spinta che manterrà i suoi effetti oltre quest'anno. La cultura è davvero una sorta di metronomo della storia. È una chiave che ci consente di comprendere il passato, interpretare il presente e progettare il futuro, per sentire la storia come nostra e per renderci protagonisti dei suoi cambiamenti. La cultura spinge all'innovazione. Nel renderci consapevoli del cammino percorso ci dà il coraggio di andare avanti, insieme, come comunità. Battere il tempo vuol dire anche questo. Affrontare la modernità, essere capaci di guidarla nei sottraguardi di maggiore civiltà, di benessere, di sempre più ampia diffusione delle conoscenze, mettendo in moto un circuito virtuoso in cui il testimone della vita e della responsabilità passi naturalmente da una generazione all'altra e affinché i più giovani possano crescere, progettando il futuro senza impedimenti. Non essere in definitiva significa superati e travolti dall'incedere del tempo. La cultura definisce il segno distintivo di ogni comunità. Ed è tutt'altro che una condizione statica, immobile, inerte. Perché si nutre di creatività e di confronto. Si sviluppa nel dialogo e nelle relazioni. È più ricca quando si apre alla conoscenza e al rispetto delle differenze. La storia ci dimostra proprio grandi avanzamenti nelle scienze, nelle arti e nel pensiero scaturiti da incontri, da scambi, da apertura reciproche alla conoscenza. La cultura che trasmette la memoria e offre spazio alla creatività è risorsa preziosa. Un patrimonio che rende tutti più ricchi. Di umanità anzitutto. La cultura, l'arte non sono mai ambiti separati dalla vita. La scuola di pittura che si sviluppò in città nel Cinquecento, attorno al correggio pramigianino, fu l'espressione di uno sviluppo e di un abbellimento di Parma che correva in parallelo con la crescita di ruolo della città e il suo profondo rinnovamento urbanistico. Il talento musicale, poco anzi ricordato dal coro del Nabucco, impareggiabile di un illustre figlio di questa terra, Giuseppe Verdi, le cui opere continuano ad affascinare e a coinvolgere in ogni parte del mondo, fu poso servizio dell'ideale risorgimentale del nostro Paese. È un altro indimenticabile parmigiano. Arturo Toscanini, esule per la violenza fascista, diede un segno di rinascita al nostro Paese con il concerto della liberazione per l'apertura della scala nel 1946. L'esperienza di capitale della cultura è una straordinaria opportunità per porre in sinergia le istituzioni, le forze imprenditoriali e sociali, i corpi intermedi, le intelligenze e le sensibilità presenti nella città e nel territorio in cui è inserita. Quando si realizza una felice collaborazione tra pubblico e privato, come qui è avvenuto, come hanno sottolineato il sindaco e l'assessore alla cultura, si rafforzi il tessuto civile, oltre a quello economico. I positivi risultati sono così destinati a perpetuarsi in termini di turismo, di capacità di iniziativa, di mobilitazione di risorse, di forze, di crescita della società. L'Ateneo di Parma è tra i più antichi del nostro Paese, ha sviluppato un forte legame con la città e due mesi fa, alla inaugurazione dell'anno accademico, mi è apparso evidente quale la sua tradizione sia posta a servizio di moderni traguardi sociali e culturali. Il tema scelto in quella occasione, la sostenibilità dello sviluppo, costituisce orizzonte del nostro impegno culturale, ma anche economico e civile. Parma sarà vetrina dell'Italia e questo impegno la porterà a sentirsi sempre più città europea e sede dell'autorità per la sicurezza alimentare e questa istituzione dell'Unione, così integrata nel tessuto della città, non sarà estranea agli impegni di quest'anno. La sfida di un'alimentazione sana e di una sostenibile agricoltura sono grandi temi per il nostro futuro e possono essere affrontati con successo soltanto se sorretti da una crescita di consapevolezza e appunto di cultura. La qualità del cibo e cultura e la catena agroalimentare sarà settore cruciale dello sviluppo sostenibile della nostra Europa. Scriveva nella prima metà dell'Ottocento Stendhal, nella certosa di Parma, parlando degli italiani, che le loro gioie sono più vive e durano più lungamente. Stendhal chiamava il nostro Paese e forse anche per questo non risparmiava delle critiche e degli sguardi critici al costume italiano. Ha formulato tuttavia un apprezzamento per l'intensità del nostro modo di vivere alle gioie che ci vengono offerte e sottolinea un atteggiamento positivo che mi auguro si possa sempre rafforzare. E' questo l'augurio che rivolgo a Parma e con Parma, tutta l'Italia, di vivere con gioia e con impegno questa occasione. Buon 2020 a Parma, nostra capitale della cultura.